Buongiorno ragazzi, namaskar. La saggezza antica ci insegna che il fondamento di ogni ricerca che l'uomo o gruppo o nazione deve fare per prima cosa è conoscere se stessi. Nel senso del conoscere, unire, integrare e portare a realizzazione tutte le capacità e le potenzialità di cui ogni individuo o paese portatore. Non è fuggire da se stessi ed appoggiarsi agli altri. Il vero aiuto che ogni uomo, gruppo o nazione può dare all'altro è quello di aiutarlo a realizzare questo se stesso, a riabilitarsi psicologicamente e a trovare la sua identità, ruolo e funzione, affinché possa poi partecipare e cooperare in rapporto con altri uomini o nazioni alla realizzazione del bene comune generale. Un individuo, un gruppo o una nazione sono una sintesi di energia materiale e spirituale qualificata dalla loro intelligenza e dalla loro coscienza che li porteranno dalla loro intelligenza un giorno all'unità e la fratellanza universale. Oggi ognuno si trova di fronte ad un'opportunità eccezionale ragazzi, eccezionale. Finora il problema dell'integrazione psicologica, del vivere intelligentemente, della crescita spirituale è stato circostanziato all'uomo, visto come unità e singolarità. Oggi grazie ai conseguimenti ottenuti nel campo della scienza e della cultura, lo ammetto, è possibile pensare in termini molto più vasti e vedere l'umanità in una prospettiva più ampia e più giusta. Quindi oggi il nostro orizzonte si estende all'infinito e sempre di più si comincia a riconoscere di far parte di un grande organismo vivente, definito dalle sue interrelazioni e dai rapporti stabiliti fra i suoi vari organi, cellule e via dicembre. Namaskar con la mente e con il cuore.